Cenea Federmoda presente per il terzo anno consecutivo alla Torino Fashion Week ogni anno una location diversa ma ogni anno un grande successo, un grande risultato in termini di visibilità e di promozione della moda torinese Torino Fashion Week per Cenea Federmoda è soprattutto questo un grande trampolino di lancio per la gloriosa sartoria torinese per il fatto a mano, il capo su misura, per la piccola serie che rappresenta davvero il grande patrimonio del tessuto imprenditoriale di questa città dal momento in cui sono cessate le grandi produzioni seriali penso al gruppo CFT, penso ai grandi cotonifici che hanno chiuso gli ultimi negli anni 50-70 lasciando a casa migliaia di maestranze che hanno continuato però a coltivare questa grande passione della sartoria, del cucire io dico spesso che se Torino ha una grande opportunità da giocarsi è quella di guardarsi alle spalle questa è una città nella quale ogni torinese doc diciamo chi almeno ci vive da qualche generazione ha sicuramente una mamma, una nonna, una zia che hanno fatto la sarta che hanno lavorato come operaia in un cotonificio, in un'industria tessile ecco da questo grande patrimonio di competenze e di capacità deriva quel ricchissimo sottobosco di 1500 attività imprenditoriali in larghissima misura ditte individuali che popolano questa città metropolitana di Torino e che la fanno grande, la rendono diversa da Milano e la rendono interessante per un pubblico di qualità quindi Torino Fashion Week, opportunità di visibilità trampolino di lancio per le nuove generazioni che sempre più spesso si avvicinano alla passerella, alla sfilata ma soprattutto al fatto su misura, al fatto bene a un made in Italy di alta qualità però un patrimonio di competenze che interessa anche i buyer internazionali e in questo devo dire grazie a Claudio Azzolini a tutto lo staff di Torino Fashion Week per aver saputo lavorare e bene sin dall'inizio con Union Camera e Piemonte, con Camera di Commercio di Torino a creare reti, relazioni che sono quelle che fanno crescere la moda di Torino e la fanno conoscere nel resto dell'Europa nel resto del mondo creando anche contaminazioni interessanti che nascono anche grazie alle passerelle della Torino Fashion Week qui all'ex Borsa Valori di Torino ma nascono anche grazie a quelle centinaia di imprenditori di origine romena, ucraina, moldava, sudamericana che ormai hanno scelto Torino come luogo di residenza come luogo di vita, come luogo di creatività di espressione della loro creatività e che spesso si sono contaminati con un patrimonio di competenze tipicamente torinese ecco da questo meticciaggio, da questa contaminazione è nata una nuova creatività che spesso è protagonista in queste occasioni della Torino Fashion Week ma che in realtà è presente tutto l'anno sul territorio della città metropolitana